Oro Stone Oro Stone è la tipica struttura della roccia. Si sviluppa in sei colori declinati in tre finiture, naturale, tecnica e splitted stone. Lo splitted stone è un volume tridimensionale che rappresenta la pietra spaccata, tecnica molto usata per fare rivestimenti a muro. L'ampiezza dei formati di questa serie, nel 9,5 e nei 2 cm, ci permette di fare la posa correre multiformato, molto usato nella quarzite. La collezione è arricchita anche dalla proposta Multi Prestige Brecciato. 9 formati diversi con bordi brecciati, miscelati e scatolati insieme, per ottenere una posa variegata e naturale. Grazie a tutti!